Umiliato, The Special One, José Mourinho, tatticamente umiliato da un 32enne, dal mio co-nazionale Julian Nagelsmann. Ragazzi, sapete che sono interista, sapete perciò che sono ovviamente anche grato a Mourinho per tutto quello che ha fatto con la nostra amata Inter, però su questo canale devo essere obiettivo, devo essere onesto, ieri ragazzi Mourinho è stato veramente umiliato da Julian Nagelsmann, dal calcio della Red Bull. 11 anni ragazzi, dopo la fondazione, 2009 l'Ipsia viene fondata, raggiungono i quarti della Champions League, vittoria assolutamente meritata, nettissima sia all'andata sia al ritorno e oggi voglio parlare come funziona il calcio della Red Bull, sviluppato da Ralf Rangnick, perfezionato da Nagelsmann che viene praticato in tutte le squadre della Red Bull, in Austria, in Germania, in Brasile, tra per tutto. Innanzitutto però vi invito anche a scaricarvi l'app di OneFootball, migliore applicazione per stare sempre aggiornati sul mondo del calcio, vi lascio il link in descrizione, completamente gratis. Allora, Tottenham perde tutte le quattro partite contro squadre tedesche, sia contro il Bayern Monaco, sia contro l'Herbie Lipsia. L'Herbie Lipsia diventa dopo Bayern Monaco, Dortmund, Leverkusen, Kaiserslautern, Schalke, Wolfsburg, la settima squadra a raggiungere i quarti della Champions League. La Bundesliga, sotto questo punto di vista adesso, è solo dietro la Spagna e dietro l'Inghilteria, dove sono stati addirittura otto squadre. Cosa c'è da dire ragazzi? Vi ho fatto un video lungo, come mai i tedeschi odiano l'Herbie Lipsia, ci sono tantissime polemiche, tantissimo odio, per esempio anche contro Timo Verna. Vi lascio tutti i link in descrizione, chi ancora non ha visto questi video, sapete che anch'io sono un po' scettico verso il progetto della Red Bull, da tifoso tradizionale mi fa un po' paura vedere una multinazionale che trasforma dei club, che vuole anche trasformare dei club con tradizione in progetti di marketing, cambiando anche logo, stemma, nome, cambiando veramente tutto quanto, però questo è un lato ragazzi, ne abbiamo già parlato abbastanza. In questo video oggi voglio parlare del calcio giocato, voglio parlare proprio del progetto, del concetto della Red Bull, che ormai è un network mondiale, e perciò ragazzi analizziamo un po' il calcio in questo video di Julian Nagelsmann dell'Herbie Lipsia, e c'è assolutamente da sottolineare che l'Herbie Lipsia sta facendo qualcosa di fantastico per il calcio tedesco ragazzi. Sia a livello nazionale, la Bundesliga è equilibrata come mai, ci sono tre squadre lì in testa, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Herbie Lipsia che stanno ancora lottando per lo scudetto, ci sono altre squadre che piano piano stanno un po' copiando il modo come gioca l'Herbie Lipsia, per esempio c'è il Borussia Mönchengladbach che giocano un calcio abbastanza simile a livello tattico, che in questa stagione nessuno se lo aspettava, anche loro stanno lì davanti e mancano pochissimi punti alle prime squadre. Perciò sia a livello nazionale, la Bundesliga è equilibrata come mai, sia a livello internazionale, perché anche in Champions League, adesso ripeto, Lipsia diventa l'ottava squadra, no, la settima squadra a raggiungere i quarti della Champions League, perciò Lipsia sia a livello nazionale sia a livello internazionale sta dando qualcosa di grande al calcio tedesco, questo c'è da sottolineare anche se ci sono tutte le polemiche che ci sta ragazzi, viviamo in democrazia e possiamo tutti quanti avere delle opinioni diverse. Allora a partita di ieri, in palleggio, sicuri, veloci, dominio assoluto del centrocampo, ho visto veramente un centrocampo scandaloso del Tottenham, il capitano Marcel Sabitzer, che ha giocato sia al Salisburgo sia adesso al Red Bull Lipsia, esempio proprio simbolico per quello che sta accadendo, come si aiutano anche le squadre che stanno in questo network della Red Bull, segna due gol, uno addirittura di testa, mi pare che non abbia mai segnato un gol di testa, lavora tantissimo però anche contro la palla, partita veramente fantastica del capitano dell'Herbie Lipsia. Allora, come ho già detto ragazzi, tutti i club della Red Bull giocano un calcio simile, calcio che secondo me è proprio la visione di gioco di Ralf Rangley, che potrebbe anche arrivare in Italia all'AC Milan, anche lì ho fatto un video lungo, vi lascio anche qui il link in descrizione ragazzi. Allora, giocano un calcio rapido, con un pressing ultra offensivo, grande intensità, con queste verticalizzazioni velocissime. Borussia Mönchengladbach, ripeto ragazzi, hanno un po' copiato questo stile di gioco, e stanno solo quattro punti dietro all'Ipsia. Se vediamo la partita di ieri, Loris è stato spesso costretto a fare questi lanci lunghi, perché subito iniziava sempre questo pressing ultra offensivo dell'Ipsia. Verna, Schick, Nkunku, i tre attaccanti, pressano sempre subito la difesa a tre del Tottenham. Mukil e Tassend, che sono gli esterni, spingono e pressano anche gli esterni del Tottenham. Soprattutto ho visto Aurier molto molto in difficoltà, che non mi ha convinto in questa partita di ieri. E Verna, Schick e Nkunku, ragazzi, sono dei giocatori anche intelligenti, che non solo pressano, chiudono anche sempre le linee di passaggio per lo Celso e per Wings. e perciò giocano, che giocano in questo centrocampo in basso. Perciò praticamente spesso ho visto il Tottenham costretto a dover fare questi lanci lunghi. E poi l'Ipsia ieri sono stati molto molto, ripeto, aggressivi, anche molto vincenti, fisicamente determinanti, atleticamente forti. Queste sono proprio le caratteristiche dei giocatori che voleva sempre Ralf Rangnick, che non ha mai puntato a comprare giocatori già fatti, già pronti, Ova 30, che sono già dei top player. No, lui vuole giocatori funzionali, giocatori soprattutto anche atleticamente forti, tatticamente intelligenti. L'abbiamo visto ieri, ragazzi, dopo questi lanci lunghi del Tottenham, anche quasi tutti i duelli aerei. Lì ha vinti l'Herb Ipsia, una cosa veramente impressionante vederlo da una squadra così giovane. Lì dietro mi piace tantissimo Klosterman, ragazzi, che non è solo forte fisicamente. Mi ricorda un po' Sule, a livello proprio fisico. È molto grosso, può fare sia il difensore centrale, sia l'esterno. Perciò gioca ovviamente molto bene in questa catena a tre. È molto rapido, nonostante che lui è così fisicamente così forte. Perciò lui è stato il giocatore perfetto per marcare Lucas. Lucas che sapete che è ovviamente un fuoriclasse. Perciò questi spostamenti, questo pressing verso il pericolo con cambi posizionali dell'Herb Ipsia. Un altro esempio, ragazzi, Upa Meccano che gioca nella difesa a tre a centro, che anticipa spesso i palloni. Esce dalla difesa a tre, per esempio, per pressare delle ali. Ha pressato tantissimo su questo ragazzo giovane. È subito questa difesa a tre, che in teoria poi restano solo due giocatori. Se Upa Meccano esce, anticipa tutti questi palloni, si trasforma sempre in una classica catena a quattro. Perché in pratica restano solo i due difensori centrali. E poi vengono in basso anche i due esterni, Tassende e Mucchiele. Perciò una grande disciplina tattica. E ormai questi movimenti sono proprio nel D&A dei giocatori. Perciò ovviamente tanta tanta roba. Vedere questi spostamenti, anche posizionali, che rendono l'Ipsia molto molto flessibile. Ed è veramente molto molto difficile giocare contro l'Ipsia, sia in fase offensiva, sia in fase difensiva. E poi, ripeto, verticalizzazioni veloci. Dopo queste transizioni, un gioco molto rapido, un gioco spettacolare, un gioco anche bello, ragazzi. Parliamoci chiaro. L'Ipsia ci regala anche un calcio bello. E poi spesso passaggi lunghi su Timo Verna, che è uno che c'ha voglia. Uno che cerca l'uno contro l'uno. A me non piacciono gli attaccanti esterni che hanno paura di tentare il dribbling. E hanno paura di cercare l'uno-uno. E hanno paura di creare superiorità numerica. Invece Timo Verna non è così, ragazzi. Lui si sposta dappertutto. A destra, a sinistra. Prova sempre ad andare nell'uno contro uno. E in queste transizioni veloci, in queste verticalizzazioni, Timo Verna è veramente determinante. In fase di possesso, anche lì, Upamecano, giocatore secondo me chiave, molto importante. Spesso si posiziona a centro campo. Addirittura come mediano. E perciò Sabica, che abbiamo già parlato del capitano dell'Ipsia, che gioca in questa posizione, si sposta avanti. Anche lì, ragazzi, di nuovo vedete quanto è flessibile il gioco dell'herby Lipsia. Perciò posizioni fisse, che ormai nel calcio moderno non ci devono più essere, non ci sono nel gioco di Julian Nagelsmann. Poi Verna viene anche tantissimo in basso. Spesso si porta a via due giocatori. Ripeto, uno che va a destra, a sinistra, in profondità, in basso. E poi, in queste situazioni, spesso ho osservato ieri, lui viene in basso. Si porta a via due giocatori, perché tutti lo sanno che Verna è pericoloso. e due esterni entrano in questo spazio, attaccano la profondità. Ragazzi, che vi devo dire? Mi mancano un po' le parole, perché sapete, non amo tantissimo il progetto della Red Bull sotto alcuni punti di vista, eccetera, ma stanno giocando un calcio meraviglioso. Un calcio, mi sto emozionando, come quando vedo il calcio dell'Atalanta. Perché io, ragazzi, sono tifoso, c'ho due cuori. Sono tifoso, ma sono anche un amante del calcio, del calcio giocato. Io lo amo. Quando vedo delle squadre che giocano alla perfezione, mi viene la pelle d'occa, ragazzi. Perciò, ieri, veramente, a livello proprio di tifo del calcio giocato, mi sono emozionato vedere questo, questo Lipsia. Perciò, facciamo una piccola sintesi. Incredibilmente aggressivi. Hanno vinto tutti i duelli aerei, verticalizzazioni, velocissimi, chiudono le linee di passaggio, velocissimi, delle transizioni. Tanta, tanta roba, ragazzi. Inoltre, una squadra ancora giovane, come ho letto su Transfermarkt, dove spesso guardo le statistiche, Lipsia ha una età media, cioè, hanno mandato in campo nella Bundesliga la formazione iniziale più giovane in assoluto, con 23,3 anni, mi pare stato contro il Werder Bremen. Perciò, una squadra ancora molto, molto giovane che rappresenta proprio il modello della Red Bull, che, ripeto, ormai è un network internazionale, ragazzi. c'è la Red Bull Brazil, fondata nel 2007, che ormai si è, hanno cambiato nome, è diventato Red Bull Bragantino, perché hanno fatto una fusione con una squadra della seconda divisione. Sono anche in America, c'è i New York Red Bulls, che fino all'anno 2006 si chiamavano Metro Stars, e poi, dove ci sono tante polemiche, in Europa c'era l'SV Austria Salzburg, che 2005 si trasforma in Red Bull Salzburg, in Europa League 2018-2019, abbiamo visto una cosa quasi irreale, ragazzi, giocare Erby Lipsia contro Erby Salzburg, che capisco le polemiche, perché è un po' strano vedere giocare due squadre del Red Bull, che si affrontano, considerando che Red Bull Salzburg ha mandato già una ventina. Mi pare sono 18-19 giocatori, se adesso non mi spaglio, che sono già arrivati da Salzburg all'Ipsia, ragazzi. Il concetto è ben chiaro. Ci sono diverse squadre, come per esempio nella seconda divisione in Austria c'è l'FC Liefering, che è la squadra più scarsa in questo network, anche se devo dire stranamente sulla carta, ho fatto le mie ricerche, è un club indipendente, però il concetto è ben chiaro, ragazzi. I giocatori giovanissimi talenti, giovanissimi che ancora non sono pronti per giocare al Salzburg, vanno all'FC Liefering, l'FC Liefering. Se poi sono pronti, vengono a Salzburgo, se sono pronti, vengono addirittura all'Ipsia. Questo è il concetto della Red Bull, che secondo me, ormai, piano piano, è una rivoluzione. Sapete che io amo il calcio antico, il calcio di una volta, che ci ha fatto tutti emozionare, però secondo me, alcune dinamiche, non li possiamo più stoppare, e vediamo che anche altre squadre, piano piano, cominciano a copiare alcune cose di questo concetto. Per esempio, ho letto che esiste una squadra in Portogallo, l'FC Fama Licao, scusate per tutte le mie pronunce, ragazzi, che non sono perfette, però è un piccolo club portoghese, l'Atletico Madrid, spesso gli mandano dei giovani talenti, proprio per maturare, ragazzi. Perciò, secondo me, è un concetto della Red Bull, che potrebbe essere applicato, da tante altre squadre, da tante altre società, ragazzi. Fate come sempre, fatemi come sempre sapere la vostra opinione sotto i commenti. Un grande abbraccio a tutti, ragazzi, vi voglio un mondo di bene. Ripeto, in questi giorni difficili, dove purtroppo la nostra vita è molto molto limitata, un grande abbraccio a tutti quanti, in tutte le regioni, che è stata colpita da questa cosa, da cosa tremenda, questi giorni. Io non vi voglio abbandonare, voglio portare più video possibili, ragazzi. Così siamo vicini, stiamo a casa, rispettiamo tutte le regole del governo, così possiamo lottare, possiamo vincere contro questo virus. E però, ragazzi, restiamo uniti, restiamo insieme, parliamo di calcio, pensiamo ad altre cose, questo ci può solo fare bene. Perciò io non vi lascio, io ci sarò qui con più video possibili. Un grande abbraccio a tutti, vi voglio un mondo di bene, ragazzi. Video lungo, perciò se l'avete visto fino alla fine, lasciate l'hashtag come sempre iscritto di qualità. Vi voglio un mondo di bene, un grande abbraccio.